Il 20 marzo del 2022, sulla strada provinciale in località Cantorato, il giovane Giuseppe Pio De Fazio investì e uccise una bambina ucraina di 5 anni, ferendo gravemente anche il ragazzo crotonese 17enne che la teneva in braccio. Il giovane ora è stato condannato a 18 anni di reclusione, passando agli arresti domiciliari per omicidio volontario e lesioni personali. Il ragazzo ha sempre negato di aver investito volontariamente quelle persone a passeggio e anzi confermando di non averli proprio visti sulla carreggiata. Il ragazzo, quel 20 marzo del 2022, investì un gruppo di ragazzi che passeggiava sulla strada. Tra di loro c'era la piccola bambina uccisa. Inoltre il giovane De Fazio è stato condannato al risarcimento del danno di 300 mila euro alle parti civili, familiari e parenti delle vittime.